Stefano, siamo alle fasi finali di questa giornata, conferenza stampa di Emiliano Bicicola, Fiorentina batte Real Vicenza 6-1 dopo un gol iniziale abbastanza fortunoso da parte di Real Vicenza, Ghidotti sorpreso, un tuo commento e il tavellino della partita. Allora, sì, è iniziato al settimo minuto e cinquanta con questo spiovente lunghissimo di tal barrazza che ha sorpreso Ghidotti che ha preso un gol da quasi metà campo, poi abbiamo pareggiato con il tapin di Gori che al solito in mezzo all'area lui timbra, poi abbiamo ribaltato con Marozzi sul 2-1, 3-1 di Spalluto, poi il 4-1 di Simic, il 5-1 di Kukovec con un bel lancio smarcante e un pallonetto di controbalzo sull'uscita del portiere, il 6-1 finale di Simic al 46esimo della ripresa. Per inciso, non mi sono ricordato di andare in strada stampa a mettere un possibile risultato tutti gli anni, c'è la rincorsa di Chilazzecca, devo dire, si può dire, non si può dire, sono le sensazioni. Stamattina mi sono svegliato, convinto che la Fiorentina vincesse 6-2. Abbiamo vinto 6-1, ci sono andato assolutamente vicino, purtroppo non l'ho messa a referto, forse avrei vinto il risultato più vicino a quello che poi si è verificato. Ho visto una discreta Fiorentina, ovviamente il test non era di quelli probantissimi, però questo manipolo del Real Vicenza ci ha messo anima e cuore, anche qualche contrastone abbastanza rude, un fallaccio di gattari su Gorgossi a metà del primo tempo, ci ha fatto tutti rizzare perché è entrato con i classici tacchetti smerigliati, come si suol dire noi, no? Per cui però alla lunga la maggior classe, la maggior tecnica, la maggiore applicazione, la voglia di far dimenticare quel gol da metà campo di Ghidotti in tutti ha portato, che poi abbiamo vinto 6-1, abbiamo messo a referto dunque la seconda vittoria negli amichevoli precampionato, adesso arriveranno i due test un pochino più probanti, si sale di categoria, arriva prima il Bari, neopromosso in Serie C dalla risalita con la nuova gestione dei De Laurenti in appoggio alla società dei Galletti e poi l'ultimo giorno il Benevento che tra l'altro ieri ha combinato uno scherzetto di non poco conto al Napoli, il Benevento ha battuto il Napoli nella prima uscita di precampionato 2-1, sono risultati dell'estate che lasciano ovviamente il tempo che trovano, però è una squadra di categoria inferiore che batte a domicilio a Di Maro, il Napoli non è di tutti i giorni, è un risultato un po' sorpreso in queste amichevoli estive. Io mi sono divertito, credo che i ragazzi abbiano preso un po' di morale per finire al meglio questo ritiro estivo di cui è entusiasta Bicica che ha detto che ovviamente la prima squadra ha chiamato, il settore giovanile si è trasferito momentaneamente da San Pere a Sieve a Moena in tutt'altra contesto, in tutt'altra struttura, in tutt'altro centro tecnico, in tutt'altro alloggio di hotel di assoluta importanza e rispetto, per cui credo che per questo gruppo di ragazzi nuovo che andranno a far parte della nuova primavera sia una giornata assolutamente ricca di soddisfazione. Allora Stefano, bisogna ricordare a onor del vero che questa era la primavera perché la prima squadra, o meglio quella che è ancora una squadra in costruzione, affronterà il giorno 16 nella nottata italiana, il primo impegno in terra degli Stati Uniti, in Illinois, non proprio Chicago, nell'estrema periferia, affronterà il Guadalajara, squadra messicana, quindi fra la partita di oggi e quella che vedrà contro il Bari di mercoledì avremo Stefano anche la partita contro il Guadalajara, cercheremo di vederla, l'Enalotto e guardiamo se riusciamo a vedere qualche cosa. Sono d'accordo con te, c'è entusiasmo dei ragazzi nuovi, io ho visto molto bene, sono d'accordo con chi ha nominato Niccolò Pierozzi, ho visto molto bene Fiorini nel ruolo di playmaker, un playmaker diverso dall'Acti. L'Acti era più fisico, L'Acti era un giocatore che faceva sentire le caviglie, Mattia è un ragazzo di classe, di gran tocco. Mi è piaciuto molto l'intensità di Anuliak. Stefano? Bene, anche Mosti e Ponzi nei loro movimenti, nella velocità, e poi anche questo Simice che ha fatto una doppietta. Però ho sbagliato altre due o tre piccole cose, però è un giocatore su cui mi diceva anche quest'inverno, Bicica è la sua scelta numero uno per ricoprire più ruoli in momenti nevragici di certe partite dove serve un ragazzo che svaria a destra, svaria a sinistra, può fare anche volendo la seconda punta di supporto e oggi, guarda caso, lui che non è una prima punta ha fatto doppietta. Ti dirò Stefano, ora mi dirai che sono fissato, hai ragione, perché diventando vecchi ci si fissa sulle cose. Gli esterni, sinistri, la Fiorentina a me piace Simonti, dopo Ranieri piace anche Simonti. Sì, è un ruolo dove evidentemente le pianticelle viola crescono bene, ora poi vedremo in prima squadra che scelta verrà fatta, perché gliel'hai fatto notare l'altro giorno a Montella che c'è un esterno che potrebbe essere di troppo, ma se io dico che sono tre, due servono, giochi la Coppa Italia, giochi il campionato, se ne rompe uno, perlomeno ne hai due, uno gioca e l'altro è l'immediata riserva in sostituzione. Probabilmente tre potrebbe essere anche un numero giusto. Anche perché Ranieri in una difesa a tre, Montella gioca a quattro, però nella difesa a tre Ranieri può fare il terzo di sinistra, l'ha già fatto con Grassadonia a Foggia, lo ha fatto con l'Under 20 di Nicolato, quindi Stefano Ranieri si può proporre anche per un modulo con la difesa a tre. La difesa a quattro, ecco, vedo meglio Biraghi. Sì, ma sì, Biraghi è ancora un giocatore troppo più importante di Ranieri, nel senso che è nazionale. Ma non 3-5-2, nei tre Ranieri, nei cinque Biraghi. Assolutamente sì, sono due scelte, vedremo quello che Montella dovrà scegliere, potrà scegliere a seconda dei vari avversari che lì si prepareranno davanti e magari avere una scelta differente dall'altra e poi anche prendere in contropiede l'allenatore e avversario che magari si trova un giocatore di cui non si poteva attendere certe prerogative. Allora Stefano, è un Firenze Supersport fatto qua dall'impianto C. Benatti di Moena. Tu sai, io ho degli sport che ho nel cuore, il rugby innanzitutto, ma anche il nuoto. Dai mondiali di nuoto, la prima medaglia azzurra è un bronzo. Lo ha ottenuto? La nostra atleta fiorentina... Carlotta Bruni? Si chiama... Bruni. Mi prendi incontro... La fiorentina Bruni vince la medaglia di bronzo nella 10 km femminile in un arrivo incredibile. Sette delle prime dieci arrivano in un secondo. Ci sono stati un centesimo tra la terza e la quarta, un centesimo tra la quinta e la sesta, un centesimo tra la sesta e la settima, un altro centesimo tra la settima e l'ottava. incredibile, comunque siamo di bronzo e chi ben comincia normalmente è a metà dell'opera. 10 km in acqua e libere, molto spesso è molto diverso nuotare in acqua e libere che in piscina, come sappiamo tutti, però la prima medaglia dei mondiali di nuoto è targata Firenze. Firenze, siamo assolutamente felici perché lei è una grandissima specialista di queste distanze e ancora una volta quando le campionesse vanno a giocarsi in una corsa iridata noi timbriamo sempre il cartellino. Il nuoto di fondo è una, come la scherma a livello di Olimpiade, è una dei bacini di tantissime medaglie per il nuoto azzurro. Purtroppo a Cerenza ha esordito nella 10 km con un quinto posto, lottando sulla fine alla fine, la nostra invece, la nostra Bruni. Sul terzo gradino ha due centesimi dall'oro a un centesimo dall'argento, incredibile. Ricordiamo che il 21 di giugno cominceranno le gare per quanto riguarda gli atleti della Florenza Noto Club, Filippo Megli comincerà con le batterie di 200, il nuovo batterie delle 4 per 200, il 26 Matteo Revestivo affronterà i 200 stili libero, di cui è il primo. 200 d'orso, oggi stiamo topicchiando sui nomi. Il 200 d'orso è primatista italiano, tre volte campione italiano in bocca al lupo, sia a Filippo che a Matteo. Assolutamente, forza, 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 perché vogliamo portare, vogliamo festeggiare al loro rientro ancora qualcosa di importante. Già essere mondiali Stefano è un risultato enorme per questi ragazzi. Ragazzi, io ve lo dico un'altra volta, non perché sono qui a parlare, non per piageria, non perché mi voglio esaltare, il capitolo a livello internazionale barra mondiale barra italiano in seno alla Florenza Noto Club, guarda caso, è iniziato nell'anno in cui la Florenza Noto Club era una di quelle dieci, lo è ancora, società che fa parte del pool Firenze Viola Supersport. Prima era una società dove si stava lavorando con tantissimi atleti, da quell'epoca sono cominciati ad arrivare i titoli italiani, le medaglie all'università di tipo Zazzeri, le convocazioni per gli europei, le convocazioni per i mondiali, le medaglie europee mondiali, la medaglia di Zazzeri all'ultimo università di, e il bronzo incredibile di materno all'estivo a Glasgow. Sarà così, sarà o non sarà così, ma per quello che riguarda gli allori che arrivano dai cosiddetti a torto sport minori che poi minori, non sono mai, ma sono gli sport da cui l'Italia trova grandissime risorse, grandissime soddisfazioni mondiali, convocazioni, grandissime prestazioni, e avere due ragazzi della nostra squadra impegnati ancora a livello mondiale ne è la testuale realizzazione in vasca. Stefano, ieri ci hai aggiornato stamattina sui risultati del baseball, se lo vuoi ricordare? Purtroppo non è andata benissimo perché la Fiorentina Baseball ieri pomeriggio era riuscita a svangarla contro la nuova Pianorese sotto 2-0, abbiamo pareggiato 2-2, eravamo andati sotto 5-2 nel decimo inning al tie-break, nella parte bassa del decimo abbiamo fatto 4 punti e abbiamo vinto 6-5. Sembrava propedeutica la prima affermazione per sognare di tornare a fare il doppio sweep, la doppia vittoria nei due incontri, invece purtroppo nella gara notturna la Pianorese si è presa la rivincita, vincevamo 1-0, sono passati, ci hanno sorpassato, hanno vinto 7-1, Grossetta ha pareggiato con Bologna, siamo in attesa di sapere il risultato di gara 2 tra Nettuno e Lupi-Roma dove Nettuno ha vinto la prima partita, mi auguro che abbia vinto anche la seconda, perlomeno perlomeno ci stacchiamo dall'ultima posizione, rimaniamo attaccati a cercare nelle prossime ultime 6 partite le 4 di campionato, prima sabato con Nettuno, il sabato dopo e la domenica dopo andremo a Bologna contro gli Athletics e poi avremo da recuperare le gare con Sala Baganza e Modena della fase intergirone, dobbiamo fare bottino assolutamente più pieno possibile per comunque sognare un buon fine campionato rimanendo lontana dall'ultima uggiosa pericolosa posizione. Quindi possiamo chiudere il collegamento, la Fiorentina primavera sconfigge il Real Vicenza 6-1, Bruni vince la medaglia di bronzo, conquista la medaglia di bronzo, la prima medaglia italiana di questi mondiali di nuoto in Corea, Stefano buonasera da Paolo Caselli e da Stefano Ballerini, forza Sport Azzurro a 360 gradi.